Il mercatino di Natale in piazza 20 Settembre a Pordenone quest'anno ospita associazioni cooperative a carattere sociale. Un messaggio per un Natale improntato ai valori della solidarietà e della condivisione. Passeggiando fra le casette di legno si può ammirare l'altissima qualità degli oggetti artigianali esposti. Articoli doppiamente preziosi perché unici e fatti a mano da persone che hanno messo a disposizione i loro manufatti per finanziare le attività delle associazioni. E' facile trovare l'idea per un regalo originale e diverso ma anche per addobbare la casa con graziose decorazioni natalizie. La scelta è molto ampia, si va da gioielli alle cornici, dalle borse ai golfini, ai cappelli, a prodotti naturali, vassoie e portaoggetti e oggetti per la casa. Guardando con attenzione si potranno trovare vere e proprie chicche come incisioni originali o ombrelli dipinti a mano. In questa casetta che cosa abbiamo? Abbiamo dei prodotti che vengono fatti manualmente dalle nonne di Casa Serena con l'aiuto delle volontarie perché naturalmente le nonne sono anziane e avendo le mani un pochino rigide hanno bisogno di aiuto. Voi che associazione siete? Siamo della Parent Project per la distrofia muscolare, una malattia che interessa soprattutto i bambini. Sono tutti oggetti esposti e fatti da bambini che aiutano altri bambini. Inoltre faremo un evento il 24 dicembre, 24 ore di spinning. Se volete partecipare l'offerta è libera, potete prenotarvi qui nella casetta. Che cosa troviamo in questa casetta? Allora intanto troviamo la Fondazione Bambini Autismo. Sono degli oggetti realizzati a mano dei nostri ragazzi. Sono dei oggetti molto particolari perché hanno la particolarità di essere unici. Sono un bel regalo natalizio e sono oggetti come vedete dai cuori di legno, le cornici. Poi hanno la particolarità di essere fatti dai ragazzi autistici che hanno un valore maggiore rispetto al valore commerciale.